Non ci sono elementi per affermare che ci siano state responsabilità degli imputati in ordine all'arriato di cui al capo 1, disastro colposo, dovendosi dunque escludersi qualsivoglia collegamento causale tra la presunta condotta omissiva tenuta dagli imputati, il crollo dell'hotel Enrico Piano. Questo uno dei passaggi chiave del corposo documento di 300 pagine che raccoglie le motivazioni della sentenza del gruppo di Pescara Gianluca e Sarandrea emessa lo scorso 23 febbraio a conclusione del processo per la tragedia di Rigopiano del gennaio del 2017. Non vi era alcun elemento, secondo il GUP, che consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull'area in questione. Se ne deduce pertanto che debba escludersi che l'omissione degli imputati possa aver avuto alcuna incidenza causale con gli eventi che, secondo le indicazioni riportate in rubrica, hanno portato al crollo dell'hotel, al decesso e alle lesioni delle persone presenti a vario titolo nell'hotel al momento dell'impatto della valanga. In sostanza ribadita l'imprevedibilità della valanga, come già indicato nel dispositivo di sentenza, come riscontrato dall'esito della dettagliata perizia del pool di esperti incaricati dal Tribunale, che non hanno potuto escludere con ragionevole certezza quanto la scossa di terremoto delle ore precedenti abbia in effetti influito sulla formazione della valanga stessa. Un aspetto questo che ha di fatto portato all'assoluzione di ben 24 dei 30 imputati al processo. Sulle condanne invece, in particolare per i due anni e otto mesi al sindaco di Farindola Ilario Lacchetta, secondo il gruppo pesa l'omessa evacuazione dell'hotel in qualità di principale responsabile della protezione civile, mentre per i due funzionari della provincia di Incecco e di Blasio, condannati a 3 anni e 4 mesi, pesano le gravi irresponsabilità nella gestione dell'emergenza sulle strade che sarebbero dovute essere liberate per consentire ad ospiti e lavoratori dell'hotel di lasciare la struttura. Ora la palla passa alla procura, che ha tempo 45 giorni per presentare ricorso in appello.